Siamo qui alle 5 terre a presentare la nuova Mini 5 porte, nuova non solo perché ha due porte in più ma perché è più spaziosa. È cresciuta negli interni di ben 5 cm nella fila posteriore, è cresciuta di passo 72 mm e di dimensioni totali 161 mm. È anche un bagagliaio sicuramente più capiente di 67 litri. Viene presentata sul mercato il 25 ottobre, al lancio saranno disponibili motorizzazioni Cooper, Cooper D, Cooper S e Cooper SD e a partire da novembre saranno disponibili anche motori d'ingresso Mini One e One D con dei prezzi che spaziano da 19.100 euro per la Mini One fino a 27.100 euro per la Mini Cooper SD.